Saluto Alexander Iacnjajev, il direttore dell'Agenzia Vista. Ben trovato, Alexander. Eccolo, ciao, ben trovati a voi. Allora, poco fa, Alexander, abbiamo visto un servizio sulle fibrillazioni nella politica e nei partiti. Abbiamo tutti un occhio, anche tu ovviamente, a quello che succederà lunedì quando ci sarà questo confronto vis-à-vis. Si vedranno in faccia, di persona, i due contendenti degli ultimi giorni, il presidente del Movimento 5 Stelle e il presidente del Consiglio. Alexander. Sì, ecco, anche noi saremo lunedì tutto il giorno accampati davanti a Palazzo Chigi. Vediamo a che ora ci sarà questo confronto, intorno a pranzo, forse, insomma, ci sono le voci. Vediamo, si dovrebbe trovare una soluzione a questa impassa. Ieri, ai nostri microfoni, Conte arrivando a uno degli appuntamenti, gli abbiamo chiesto, insomma, è superata la crisi con il presidente Draghi e ci ha risposto, vedremo, lunedì. Per ora non diciamo niente, ma già in serata ha rincarato la dose da Readem in cui ha detto questo gesto di Di Maio, insomma, questo staccarsi dai 5 Stelle, non è una cosa improvvisata in un minuto, è una cosa che si faceva da tempo. E qui si sprecano poi le dietrologie del perché, insomma, se c'è stato anche un ruolo comunque da mediazione o comunque da Consiglio, da parte del presidente del Consiglio. Tutti, naturalmente, lo hanno smentito, dallo stesso Di Maio stamattina, che ha parlato, il presidente del Consiglio naturalmente, e Conte. Ora, Conte sta facendo i conti, per così dire, con la sua base, con i suoi parlamentari, molti dei quali tifano per l'appoggio esterno. Dietro le quinte, nell'incontro con Grillo, nelle 72 ore di Grillo al Parlamento, diciamo, noi abbiamo, parlando con vari parlamentari, è stato detto a Grillo, ma perché dobbiamo rimanere in questo governo se non possiamo più incidere? Insomma, questo è un po' l'elemento del contendere. Insomma, l'appoggio esterno è stato però escluso sia dal Partito Democratico che dal stesso Premier, non vado avanti, ha detto in conferenza stampa, senza i grillini, senza il Movimento 5 Stelle, che sono alla base di questo governo, ma soprattutto non ci sarà un altro governo. Quindi, insomma, o questo o niente. Insomma, secondo me, sarà un'altra giornata bollente. Io penso che la crisi andrà in qualche maniera a sanare. Vedremo però quali potrebbero essere le concessioni ai grillini. Alexander, a proposito di giornate bollenti, adesso stiamo parlando di quello che succede nel Movimento 5 Stelle, però l'agenda della politica è fitta di argomenti che rischia di mettere uno contro l'altro i partiti che sostengono la maggioranza. Basta vedere a quello che è successo, per esempio, con la proposta di legge sullo Ius Skolle, ad esempio. Esatto. Lo Ius Skolle, poi, diciamo appunto, questa è la proposta del PD, si oppone subito, si opposta il centrodestra con Giorgia Meloni, soprattutto il centrodestra che non sta nel governo, e bisogna vedere se ci sarà una mediazione. L'ETA ha detto che va chiuso entro la legislatura. Ma poi c'è il buono 110, il cavolo di battaglia dei 5 Stelle che il governo non vuole rifinanziare e se ne parlerà sicuramente anche lunedì a Palazzo Chigi. Poi ci stanno l'invio delle armi in Ucraina. Insomma, ci sono tantissimi temi. Io, diciamo, suggerirei ai politici di guardare più che alle cose che li dividono, a queste belle notizie che ogni tanto vengono, non sempre, ma insomma ogni tanto vengono, ad esempio, il centrare l'obiettivo del PNRR in questa fase e quindi chiedere il secondo prestito che è una grande mano in una fase di crisi, di inflazione, di caro bullete, di caro energia che stiamo affrontando.